Ciao a tutti, mi chiamo Piero Chabot, sono un guardia parco del parco nazionale Gran Paradiso e sono anche il capo di servizio della Valle Orco. Ho 36 anni che ho lavorato, ora sono un rappresentante per fare un po' un discorso su tutta la biodiversità, tutto il pesce, la flora e la fauna che sono dentro del parco.